Un applauso a Cristina, buon'altra serata, insieme a voi, in allegria, tornando un nuovo per l'orchestra della storia. Bene, ho dicato una canzone degli anni 60, che forse magari non si senti più in giro, è una canzone che ha cantato Vianella, ricordati Vianella, o mio signore, dedicato a tv, speriamo che il 2013 sia migliore. Ehi, per voi. E' migliore canto, per voi. Grazie. Oh mio signore, qui in questo mondo, io non tanto, e qui sono contento, sono contento. Oh mio signore, io ti ringrazio. Grazie. 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 E adesso è la volta della nostra Stefania, che... No vengo giù con te, no vengo giù con te e non puoi cantarne una con te perché mi è mancato molto questo periodo qua di maternità. Facciamo una bloccia Stefania? Blocco forzato e allora è tanto che io non canto con te, mi piacerebbe cantarne molto. Facciamo una? Facciamone una a caso. Sono degli anni 60? Sì. Sempre 60? Sì. Guardando te mi vedi un titolo. Ma guarda un po'. Guarda. Ma va. Eh? Guarda. Io ti vengo a dietro, eh? Certo. No, spera. Odeco una cosa frantissima. No, venga. Ti seguo. Sì. Sì. Guarda. Che al mondo c'è. Quello che tu. Stai cercando. Guarda. 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 Guarda di vicino. Ci sono io. Che sto aspettando te. Che tu. 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 Non potrai mai fare un meravigliere Guarda che amore c'è Quello che tu stai cercando Guarda, guardati vicino Ci sono io che sto aspettando te Io lo sai che ti amo Che voglio solo te Io sono sicuro Non potrai mai fare a me Di me Di me 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 Emilia Grazie Non potevamo avvicinarci Ho visto io e te Non possiamo avvicinarci